mi trovo in via duca di genova tra via oberdan e via mazzini una situazione vergognosa la pavimentazione appunto che sprofondata parliamo di mesi fa parliamo della scorsa della della scorsa dell'estate che abbiamo lasciato appunto da qualche mese guardate il i mattoni sono letteralmente sprofondati collassati è una situazione incredibile segnalata segnalata e segnalata la strafottenza assoluta dell'amministrazione comunale la strafottenza assoluta dell'assessorato ai lavori pubblici la strafottenza assoluta dell'assessore ai lavori pubblici degli assessori ai lavori pubblici siamo passati da mattia giorno a mimmo ciraci una situazione una un menefreghismo galoppante guarda è mai possibile qui io ci posso mettere il piede dentro si sprofonda si entra proprio si è si sprofonda si va nel 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 sotto nel sottosuolo e oltre al fatto che da qui fuoriescono topi insetti e quant'altro i cittadini disperati guardate hanno dovuto provvedere artigianalmente per salvare il salvabile a mettere questa questa questo pezzo di legno poggiato qui sopra per cercare di salvare il salvabile ma questo accade solo in una città del terzo mondo noi abbiamo il sindaco melucci che il sindaco di una città del terzo mondo che gestisce e amministra una città con i criteri e i metodi di una città del terzo mondo perché solo nel terzo mondo dopo ripetute segnalazioni non si interviene la stessa situazione vergognosa accade a tara allora se io non avessi detto non vi dicessi che qui siamo in via duca di geno io potevo dire che questo è un marciapiede di un paese sottosviluppato non nessuno se ne sarebbe accorto c'è un abitante della zona prego che vuole dire qualcosa e s'ha sperato prego questo è successo st'estate e niente abbiamo provveduto a mettere questa tavola qua per non far uscire i tupi ma la situazione va sempre a degenerare sono venuti tre quattro volte ma non mi risolta niente numerose segnalazioni nulla niente di che bene vi ho voluto rappresentare questa situazione perché ha dell'incredibile quando mi è stata segnalata lo dico con sincerità pensavo a una delle tante strade ecco facciamo soffermiamoci proprio da vicino pensavo ad una delle tante situazioni di degrado di taranto ma sinceramente assistere a una cosa del genere è la realtà che supera la fantasia ma non è solo questo pezzo perché se voi vedete tutto intorno ci sono altri mattoni che stanno collassando che si stanno piegando e quindi proprio già i lavori all'epoca evidentemente furono fatti con i piedi perché è rimasto il vuoto sotto cioè non sono non hanno messo cemento non hanno messo nulla è chiaro che poi ma si vede anche qui lo potete notare anche qua si sta curvando e un altro altri mattoni destinati a fare la fine la stessa fine sono questi che dire un'amministrazione fallimentare un'amministrazione del nulla cosmico e voi avete il coraggio di dire stiamo seminando la rinascita il meglio deve ancora avvenire ma sparite per cortesia sparite ecco se magari chiedo scusa rimettiamo il pannello il ecco questa è la prova provata di come i cittadini con buona volontà hanno cercato di rendere meno meno grave la situazione questo perché abbiamo un'amministrazione completamente assente guardate siamo nel centro vi facciamo anche vedere quindi vi ho detto via duca di genova nel tratto compreso tra via mazzini e via oberdan melucci ciraci se ci siete battete un colpo